SEMUEL ADAMS Certo! Può inserire qui un foglio di carta e fare una specie di telefonata Così chi sta dall'altra parte avrà un altro foglio con la stessa immagine È possibile parlare con qualcuno che non sia arrivato in America su un barcone? Vi serve aiuto? Vorremmo vedere un videoregistratore E non cerchi di raggirarci come fate voi commessi Come quello che mi convince a comprare un cucciolo di T-Rex Forza, batte un folò! Va a prenderlo! Oh cacchio, il carriolo! Lascialo! 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 Ho detto! Lascialo! Che schifo! È tutto pieno di bavo! Videoregistratore, vi mostro un gioiellino Si chiama Attivo Registra sempre quello che guardate per rivedere ciò che vi siete pensi Oh, sembra fantastico! Come funziona? Presto fatto, signora! È semplice come l'alfabeto Presto fatto, signora! È semplice come l'alfabeto Porto in cassa? Un secondo, aspetti un secondo Prima ne vorremmo discutere Una specie di tremore E fu così che salvai il Natale Le dispiace darci una busta, signorina?